Siamo proprio agli sgoccioli, siamo in fase di recupero, è terminata la gara, 4 a 3 vittoria trepitosa della Virtus Castelfrentano, doppietta di Lele, gol di Dondino e il primo gol l'ha fatto Teddy Mata, è terminato l'incontro, andate a salutare, mister, mister, i genitori stanno là, andate a salutare, andate a salutare, stanno i genitori posti, ecco i nostri ragazzi che vanno sotto la tribuna a ricevere i meritati applausi dai genitori, 4 a 3 per la Virtus Castelfrentano, grande vittoria dei nostri ragazzi oh!